Alessandro, in due minuti, perché dobbiamo chiudere, sarà la tecnologia che ci farà capitolare, cioè che farà capitolare il genere umano e ci porterà ad una grande guerra che resetterà tutto, perché è evidente che così andrà a finire, perché è chiaro che se... Questi sono semplicemente dei generatori di entropia. Se avessero chiesto, come dire, al tempo di Aristotele quante zampe aveva una mosca, avrebbe detto che ne avevano otto, fino a che qualcuno non ha girato una mosca e ha visto che ne avevano sei. E se avessero chiesto, come dire, ai tempi di Von Ljuvenok, da dove venivano i topi, avrebbe detto che mettendo in una scatola delle camicie sporche e dei germi di grano, quella miscela genera i topi. Allora, è chiaro che questa dimensione è una dimensione che serve a fermare lo sviluppo della conoscenza, diversamente da quello che fa il cervello umano, che va alla ricerca di dimensioni neofile, biofile, di novità, mentre invece questa dimensione è una dimensione ipnotica che serve ad abbassare il livello medio e soprattutto a spegnere la ricerca, la curiosità, l'empatia, la relazione. Quindi, io direi di essere molto rassicurati però, perché abbiamo avuto una prova, direi, neuropsichiatrica, neuropsicologica, di come non è quel tipo di intelligenza, quello che ferma, rallenta o accelera la storia. Abbiamo visto, per esempio, che alla farsa psico-info-pandemico-vaccinale hanno creduto soprattutto coloro che avevano quei medi livelli di conoscenza che questo tipo di strumenti banali tende ad esaltare, mentre invece hanno resistito soprattutto coloro che erano forti di una forte intelligenza emotiva, potevano essere anche, come dire, dei semi-analfabeti, potevano essere anche delle persone con un livello di istruzione media-inferiore, però hanno resistito perché intuivano profondamente come certi anziani, come certi figli della cultura contadina, come certi figli di una sapienza in cui, come dice bene persino il grande santo medico Moscati, non è stata la scienza a salvare l'umanità, ma è stato l'amore. E quell'amore non è una cosa né che si misura, come dire, con dei test di intelligenza tipo Q, né si misura e né si trova su Google. E quindi è questo che romperà il meccanismo. Quindi questo servirà a mantenere in uno stato di ipnosi gli stessi soggetti che si sono piegati alla farsa vaccinale, ma non spegnerà invece quell'anelito al nuovo, alla scoperta, alla conoscenza, per la quale, per esempio, noi oggi non ci accontentiamo della teoria di Von Ljuvenok, della nascita della vita per generazio equivoca, ma dopo Pasteur, dopo Koch, abbiamo guardato nei microscopi, abbiamo guardato le stelle col telescopio come faceva Galileo, abbiamo studiato il movimento del pendolo, leppure si muove e questa tensione dell'umano verso l'infinito e verso la verità non sarà spinta da Google e da quelli che mettono in rete questa roba, esattamente come mettono in rete della roba ancora più succulenta, come YouPorn, che non serve soltanto a stimolare la masturbazione, ma anche a spegnere il desiderio, a spegnere la vita, a inebriare e inebettire a gratis. E quindi, come ben vedete, questi generatori di entropia, come li chiamo io, rallenteranno per un po' la crescita dello sviluppo, dell'evoluzione della libertà, ma non distruggeranno la dimensione neofila, biofila e divina che c'è nel cuore dell'uomo, inesorabilmente. Vi devo lasciare, purtroppo. Un abbraccio fraterno. Grazie anche noi e questa è una speranza anche quella di Alessandro. Scusa, un secondo, un secondo. Ma velocissimi. Un velocissimo. Prego. Abbiamo avuto nella storia recente, quando siamo stati sull'oro della guerra nucleare qualche anno fa, pochi anni fa, è perché i computer dicevano che c'era un attacco americano alla Russia. è stato un generale russo a dire no, guardate, non è possibile perché qui c'è un errore nei nostri sistemi e per un pelo ha detto no, non schiacciate il bottone. Quindi, vedete che l'intelligenza umana ha avuto sopravento e ci ha pure salvati da una guerra. La vita salverà la vita. Sì, la vita. La vita salverà la vita.